Ieri mattina agenti della polizia locale guidati dal comandante Palestini in un'azione congiunta con due pattuglie della polizia di Stato hanno portato a compimento nell'area di risulta della stazione di Pescaro un'attività anti-accattonaggio avviata nei giorni scorsi, ha detto il sindaco Masci, per reprimere questo sgradevole fenomeno dei turistivi degli extracomunitari che arrivano a Pescaro e nelle città d'Italia dove c'è più movimento di turisti in maniera organizzata. Per chiedere l'elemosina con fare insistente utilizzando anche i minorenni. Ma gli automobilisti che frequentano le aree di risulta cosa ne pensano? Onestamente sì anche perché al momento temporaneamente sto vivendo proprio lungo corso Vittorio e negli anni l'ho vista cambiare molto quindi sicuramente ripristinare un po' di ordine sarebbe cosa buona per chi è residente qui. Non so se durerà, non l'ho seguito purtroppo, a me non danno fastidio perché fino a quando si limitano soltanto ad offrire delle cose, anche un piccolo servizio, quando sono insistenti ovviamente danno fastidio. Secondo te il problema si sposterà oppure è stata una cosa utile? Secondo me persisterà perché comunque non è la prima volta che è stato una cosa del genere. Ti è capitato di avere parcheggiatori abusivi, insistenti o di avere anche non so chi chiede l'elemosina in maniera insistente? Sì Pescara è piena di queste persone, purtroppo perché comunque è un problema della città. Dipende dalle autorità, da come è imposta la situazione. Vedo scene continuamente perché qui ci vengono tutti i giorni. Per esempio raccontami una scena che parla male a cittadini chiunque. L'ho visti però non sono mai stata vittima di niente. Lei è stato importunato da un mendicante troppo invadente? Mai, mai. Qualche volta ho lasciato anche qualcosa. Secondo me il problema aumenterà. Perché dice così? Le stiamo facendo arrivare tutti. Non è possibile, vengono qui a delinquere sostanzialmente. A lei è successo, non so, un episodio, come le posso dire, di insistenza particolare? Personalmente no, però li vedo. Lo Stato dovrebbe fare qualcosa che assolutamente non fa. Non fa assolutamente nulla. Però è inutile che vengano qui se poi dopo devono stare per strada, no? Anche se ci sono anche italiani per la verità. Sì, assolutamente. Appunto, che nessuno dovrebbe stare per strada nel 2023. Grazie a tutti.